Cosa si cela dietro al fenomeno conosciuto come voci nella mente? Si tratta realmente di schizofrenia e paranoia? Diverse persone, perfettamente sane e normali, testimoniano l'appalesarsi di un fenomeno poco conosciuto ma condiviso da migliaia di individui, un fenomeno che possiede risvolti impensabili, quanto incredibili. Dietro un apparente stato confusionale che la medicina definisce patologico, esistono riscontri importanti che dimostrano come questo genere di percezioni sia reale e non frutto di immaginazione, voci e suggerimenti provenienti da entità incorporee da tempo radicate nelle menti di molti individui. Cosa è possibile ricavare dallo studio di questo fenomeno che la scienza ufficiale non sembra in grado di valutare con appropriati strumenti? Cosa c'è dietro alle numerose informazioni che queste voci sembrano riferire? L'autore ha indagato questo sconcertante capitolo della psodoscienza, arrivando a concludere che queste persone sono testimoni di un fenomeno ancora poco conosciuto ma reale. Disponibile anche in formato elettronico. Il libro può essere acquistato sul sito editoriale dell'autore. www.lulu.com